E ora ci sta dando i soldi per la bambina? Sì Sì Sì, è vero, è successo Ma se accettano E ormai sono lì Ma li ha incastrati E sono lì tutti con i soldi Allora ragazzi, questi sono circa 7,50 euro Ce l'ho andati perché veniva dalla Mongolia? Sì Ok